Musica Cari amici di Tempi Supplementari, benvenuti ad una nuova puntata della nostra trasmissione. Riportiamo solitamente grandi personaggi del cinema, dello sport e della musica in televisione con la nostra fototema. Oggi abbiamo fatto una scelta diversa, scopriamo perché. Lo riconoscete? È lo studioso Bauman, l'anatomista della sociologia, il padre di quella scienza che, attraverso una serie infinita di analisi scientifiche ed emotive, è stato in grado di offrire una fotografia perfetta della società. Diceva, le relazioni? Il problema è che viviamo nella società della connessione e della disconnessione. È facile dunque creare quanto interrompere un rapporto, quando il segreto è il sacrificio, che ci si mette nel costruirlo. Un uomo di oltre 90 anni con il cervello di un trentenne, sempre pronto a porsi delle domande, capace di rendere agibile persino il grattacielo più alto del dubbio. Bauman è il teorico della società liquida, impossibile da afferrare e da decifrare con precisione empirica. Era l'amico che tutti avremmo voluto avere, quello che non ti giudica, quello saggio ma mai pedante, quello con la pipa fra le dita e gli sbuffi di fumo fra i capelli. Era il nostro omaggio doveroso al padre della sociologia, a mio avviso uno dei personaggi più importanti del Novecento e non solo, data la sua grande longevità.